Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla trentunesima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 23 di Matteo dei versetti 1-12. Ci stiamo così avvicinando all'ultima domenica a piccoli passi quando celebreremo nella trentaquattresima domenica la solennità di Cristo re dell'universo. Come già ho avuto modo di dire in queste ultime domeniche l'anno liturgico è la nostra vita in miniatura, la vita in scala. Ritroviamo riflessa la logica e lo sviluppo della nostra esistenza dentro l'anno liturgico. In esso in fondo troviamo quel pellegrinaggio, il pellegrinaggio della vita, tutto orientato all'incontro ultimo con il Signore quando Egli verrà a prenderci per portarci del suo regno. Un pellegrinaggio, quello della vita, orientato dunque al Signore il vivente e oggi re dell'universo. Lungo questo cammino il Signore stesso ci accompagna e attraverso la liturgia ci educa, ci forgia, ci corregge per arrivare preparati a questo atto ultimo della vita. Se perdiamo di vista questo orizzonte, molte proposte del Signore non saremo in grado di comprenderle. Ma se teniamo fisso lo sguardo alla meta, allora capiremo che ogni tassello è finalizzato a farci trovare pronti con le lampade accese. Ecco, a questo servono le guide, ad allenarci, a farci trovare pronti all'appuntamento. Valeva per gli scribi di un tempo, ma vale anche oggi per i sacerdoti, ma vale in fondo per tutti, genitori, educatori, maestri, allenatori, padrini, perché in fondo ciascuno è guida per chi incontra lungo il cammino della vita. Non ci salviamo da soli, ma insieme. E oggi la liturgia ci invita a riflettere proprio su questa responsabilità. Il testo della prima lettura tratta dal libro di Malachia richiama le guide del popolo alla loro responsabilità. Non basta avere il titolo, se poi non si assolve al dovere. Avete deviato dalla retta via. Siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie. Avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Il testo è particolarmente duro, ma addettato da una convenzione profonda. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due, ricorda Gesù nel Vangelo di Luca. Si comprendono così le parole del Salmo, che segue, fa da eco alla prima lettura. Una supplica consapevole, dolce, un atto di abbandono fiducioso nelle mani di Dio. Signore, non si esalta il mio cuore. Non vado cercando cose grandi. Resto quieto e sereno, come un bimbo in braccio a sua madre. Per questo un vero maestro, una vera guida, è proprio colui che resta saldo nel Signore, come il tralcio alla vite. Entriamo nel testo del Vangelo. Gesù si rivolse alla folla dicendo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scrivi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono di posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoge, di saluti nelle piazze, come essere anche chiamati rabbì dalla gente. In queste ultime domeniche, se ricordate, la liturgia ci ha offerto e ci ha permesso di meditare su alcune diatribe tra Gesù e i farisei sacerdoti. E il brano odierno sembra quasi riassumere tutto questo. La parabola dei due figli, di quale il primo dice no ma poi va e il secondo dice sì ma poi non va, sembra riflettere l'espressione odierna dicono e non fanno. È l'espressione di una mancata relazione autentica tra il padre e il figlio e quindi tra Dio che chiama e affida al figlio il compito e lo invia ad agire ma il figlio accetta parole e poi non fa. Segue poi la struttura e l'accusa di Gesù per la struttura nelle relazioni con gli altri. Ripensiamo agli operai della vigna chiamati alle varie ore del giorno. I primi sono arrabbiati perché gli ultimi hanno preso come i primi. Anziché a guardare alla gioia dello stare col padre fin dalla prima ora, sono arrabbiati perché non hanno ricevuto la ricompensa come gli ultimi. Ma la tua ricompensa è la gioia di stare col padre. Perché devi perderti sulle cose materiali e non valutare la fortuna che hai avuto nello stare sempre con il padre e gustare la sua gioia. E qui ritroviamo le dure parole che Gesù pronuncia oggi. Costringono a fare ciò che neanche loro fanno. Una terza e forse la più pesante accusa va al cuore di tutte le strutture, ossia ritenersi padroni quando si è solo affidatari. Se impensi alla parabola della vigna, dove il padrone anziché ricevere i frutti del raccolto, si ritrova servi e figlio uccisi. Perché i servi sono illusi di potersi impossessare di tutti i loro beni. Una condotta che possiamo vedere riflessa nelle ultime parole di Gesù. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Dall'insieme dunque dei testi di questa domenica comprendiamo che c'è la cattedra di Mosè, ossia c'è qualcuno che è chiamato ad assolvere un compito a favore del popolo. Un servizio per ricordare quanto Dio ha compiuto lungo la storia per liberare il popolo della schiavitù, ma per indicare anche la via per custodire questa memoria continuando a vivere un cammino di libertà. Ma vedete, chi non accetta questa proposta porta il popolo lontano. La denuncia è chiara. Dicono ma non fanno, legano fardelli inutili, a tal punto da svuotare la legge di Mosè con le loro stesse prescrizioni umane. Quello che fanno non lo fanno per servizio, ma per farsi mettere in mostra e Gesù denuncia questo modo di agire. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, continua il testo del Vangelo, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli e non chiamate padre, nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste, e non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Dopo la dura denuncia dunque verso i farisei e i sacerdoti, Gesù non invita alla ribellione, ma a coltivare un altro stile di vita, a ricordarsi e riconoscere che non si vive e non ci si salva da soli. Per questo dice, ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli, uno solo è la vostra guida. La proposta di Gesù è quella di mettere ordine alla nostra vita, di riordinare i pensieri, gli affetti, affinché tutto sia orientato verso il vero, il giusto, il bello, verso Dio. Un processo che non segue la logica del mondo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Un testo che aiutava a comprendere il passo del Vangelo dedicato proprio agli operai della vigna, pagati tutti allo stesso modo. O che dire delle domeniche dedicate alla misericordia, quando Gesù invita a perdonare 70 volte. Anche qui l'agire di Dio è lontano dal nostro agire. Questi esempi che vi ho appena tratteggiato e che riassumono tutte le ultime domeniche che abbiamo celebrato insieme, ci aiutano accogliere che seguire Gesù come guida non è facile, non è secondo il mondo, come bene si evince dalle parole di Gesù. Chi si umilierà sarà esaltato, ma bisogna umiliarsi prima di essere esaltati. Qui è la vera grandezza e uno solo è la guida in grado di prepararci a questo. Gesù. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e si mise a lavare i piedi. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate altrettanto. Allora vedete gli ammonimenti di Gesù al tempo rivolti agli scrivi e sacerdoti del Tempio oggi sono rivolti a ciascuno di noi, vi dicevo anche all'inizio di questo incontro. Sono rivolti alle nostre coscienze. Gesù si propone quale unica guida, unico maestro e lo predica facendo, mostrando un altro modo di essere e di agire. Ama per primo, perdona ogni misura, accoglie tutti, anche se è una proposta impegnativa, controcorrente. Ma è un peso leggero perché il Signore lo porta con noi. Nessuno allora può sentirsi estraneo o escluso dalla critica che Gesù oggi rivolge. Siamo invitati tutti a lasciarci interpellare da questa parola così chiara ma anche così esigente, a interrogarci dove siamo mancanti. Chissà quante scelte compiamo per farci notare, anche noi e anche con le nostre stesse liturgie. Chissà di quante parole evangeliche e liturgiche ci riempiamo la bocca solo per farci credere migliori dagli altri e magari per umiliare gli altri. Ecco, Gesù ci invita a cambiare direzione. Ne vale la vera gioia oggi, ma ne vale la nostra salvezza domani. E il tempo stringe, manca poco. Sì, ma come fare? Dove andare? Chi seguire? Penso che il Signore risponderebbe, ma come? Dopo tanto tempo che cammino con voi, non l'avete ancora capito? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a me se non per mezzo del padre. Nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Non ci sono allora ragionamenti da fare, ma impegni da assumere. Sapendo che vivere il Vangelo, seguire il Signore Gesù, nostra guida, è garanzia di vera gioia. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Di fronte a questa parola dura, esigente, ma anche carica di speranza, che cosa rispondiamo? Come sempre io lo faccio con due preghiere. Anzi, diciamo che oggi farò tre preghiere. La prima è la colletta, che riassume il test che abbiamo appena ascoltato. Fate attenzione. O Dio creatore e padre di tutti, donaci lo spirito del tuo figlio, venuto tra noi come colui che serve, affinché riconosciamo in ogni uomo la dignità di cui lo è rivestito e lo serviamo con semplicità di cuore. Io rispondo con queste altre parole, ma come vi accennavo farò due preghiere, reciterò due preghiere. La prima è la mia risposta a questo brano del Vangelo. Poi seguirà una seconda preghiera. La vorrei dedicare in vista della solennità dei santi. Lo scorso anno, se ricordate, feci una sorta di littanie dedicate ai santi dai primi secoli fino ad oggi. Quest'anno ho scelto di prendere esempio i dodici apostoli, i primi grandi santi, molti dei quali martiri. Celebrare la festa dei santi significa in fondo celebrare i veri influencer, coloro che veramente possono segnare la nostra vita non per i loro interessi ma per la nostra gioia. Augurovi tutti una buona domenica, una buona festa dei santi e un buon cammino. Mi fa da sfondo le due icone di San Francesco e di Santa Chiara siano loro santi che hanno parlato con la vita ad aiutarci a vivere questo tempo dedicato alla santità. Signore Gesù ci hai lasciato la tua stessa vita come parola di verità per vivere una vita piena. Tenendo fisso lo sguardo a te, maestro di vita, aiutaci a tenere viva nel cuore la consapevolezza che tu sei venuto per servire, non per farti servire. Così sia per noi. Aiutaci a tenere viva nel cuore la certezza che tu ti sei fatto per rendere. Così sia per noi. Aiutaci a tenere viva nel cuore la coscienza che tu hai governato non con l'amore della forza ma con la forza dell'amore. Solo guardando a te diverremo come te in Dio Padre nostro. E ora, come vi ho accennato, vorrei leggere con voi e pregare le litanie dei Santi dedicate agli Apostoli. San Pietro, pescatore di Galilea, audace nel lasciare tutto per seguire il Signore Gesù e umile a riconoscere le tue mancanze d'amore, prega per noi. Sant'Andrea, che con gioia incontenibile corri dal fratello Simone per condividere l'emozione di aver trovato il Messia, prega per noi. San Giacomo, figlio di Zebedeo, che lasci la barca, il padre, i garzoni, per divenire pescatore di uomini e primo martire tra gli Apostoli, prega per noi. San Giovanni, fratello di Giacomo, estasiato di fronte la trasfigurazione, impaurito innanzi al volto sfigurato di Gesù nel Gezzemani e narratore spirituale dell'amore del Signore, prega per noi. San Filippo, appassionato discepro del Signore, che vinci l'incredulità di Natanaele e lo accompagni da Gesù e con santa ingenuità chiedi di vedere il Padre, prega per noi. San Bartolomeo, convinto da Filippo di andare a vedere Gesù, stupito dal sentirti conosciuto dal Signore ancora prima di presentarti, evangelizzatore dell'Armenia per la quale darai la vita, prega per noi. San Tommaso, missionario e martire in India, desideroso di conoscere la via, incredulo di fronte all'annunzio della risurrezione di Gesù, se nonché per poi esplodere di stupore con l'espressione mio Signore e mio Dio, prega per noi. San Matteo, pubblicano ed evangelista, che sedotto dallo sguardo amorevole di Gesù, prontamente lascia il banco delle imposte per diventare narratore dell'amore misericordioso di Dio, prega per noi. San Giacomo di Alfeo, la cui vita è nascosta nel silenzio, ma la cui testimonianza culmina col martirio, prega per noi. San Giuda Taddeo, apostolo del Signore, che unito agli altri in preghiera hai atteso il dono dello spirito per poi giungere in Iran, dove incontrasti il martirio a Suanir, prega per noi. San Simone, discepolo del Signore, che col cugino Giuda Taddeo hai testimoniato il Vangelo e incontrato il martirio, prega per noi. San Mattia, dono di Dio, che scelto dal Signore per sostituire Giuda Iscariota, sei stato testimone della risurrezione e hai donato la vita pagando col martirio, prega per noi. Fratello Giuda, come hai potuto tradire con un bacio chi ti ha scelto con amore? Noi non lo sappiamo. Confidiamo che nell'ultimo istante, come è stato per il buon ladrone, un pentimento si è intematurato e a Gesù tu ti sia affidato. Prega per noi, noi per te.